ciao a tutti questa settimana sarò con la mia bancarella con tutte le mie creazioni stiatite ferro rame e legno alla festa rock park a robecchetto con induno in provincia di milano è la diciannovesima edizione di questa manifestazione musicale che è organizzata dai ragazzi della consulta giovani di robecchetto con induno e la festa si svolgerà presso il giardinone in piazza marcora o marcora non lo so come si dice comunque ci sono le informazioni sotto al video vi lascio tutte le informazioni e la festa sarà da giovedì 25 luglio quindi domani fino a domenica 28 quindi saranno quattro giorni intensi di manifestazione con musica il mercato con tutti gli artigiani che spongono poi ci sarà da mangiare da bere e ci saranno tante altre sorprese che troverete durante la manifestazione come ho detto la manifestazione dura quattro giorni quindi non c'è scusa per non venire almeno uno dei quattro giorni vi lascio tutte le informazioni sotto il video e vi aspetto in tanti al rock park continuate a seguirmi sul mio canale youtube su speed musical travels iscrivetevi e attivate le notifiche iscrivetevi anche al mio gruppo su facebook urbex and mystery e ci vediamo alla festa rock park oh yeah ciao 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 ciao